Grazie a tutti. Grazie a tutti. Perché è un tempo di grande grazia. La regina della pace ha detto che in questo tempo dobbiamo arrare il terreno perché gli possa seminare la gioia. E poi soprattutto c'è la grande esigenza di recuperare la quaresima perché se voi andate nelle scuole i bambini sanno cos'è il Ramadan ma non sanno cos'è la quaresima. E naturalmente saranno attenti quelli che fanno le messe scolastiche, le ditte, a non mettere il maiale nelle confezioni che ci sono i musulmani ma al venerdì si fanno mangiare polpetti, prosciutto ai cattolici. Questo per dire che ma questo non è per colpa delle chi fanno i mensi, è per colpa nostra che abbiamo dimenticato quel tempo forte che è la quaresima di cui ci ha dato l'esempio Gesù Cristo nel deserto. Gesù Cristo nel deserto ha fatto la prima quaresima, cioè la quaresima cristiana è cristologica, non è come quella dei musulmani che comunque è per loro un sacrificio. Perché se lo fanno, va bene che poi alla sera e di notte recuperano ampiamente, però non c'è dubbio che il significato nostro del digiuno e della preghiera ha un significato cristologico. Cioè noi imitiamo Gesù Cristo che nel deserto per 40 giorni e 40 notti ha pregato e digiunato. Io non so se ha bevuto acqua Gesù nel deserto, può darsi che abbia bevuto acqua, può darsi che abbia mangiato le radici e delle erbe. Io ho visto il monte della tentazione, c'è il monte della tentazione, quando uno va a Gerusalemme, va giù a Gerico, vederà davanti il monte della tentazione dove Cristo è stato tentato ed è un luogo deserto. Nel deserto c'è il deserto, ci saranno serpenti, scorpioni, non è che ci fosse molto, forse c'era qualche luogo, qualche anfratto, qualche spuntione di roccia dove non bruciare al sole. Quindi fu un digiuno che consiglio a nessuno, perché anche nel digiuno bisogna essere moderati, non bisogna prendere esaurimenti, però un digiuno come quello di Cristo ha pane, non ha pane e acqua, ha niente, per 40 giorni e 40 notti e digiuno. Allora bisogna scoprire, io questa sera voglio capire, voglio capire perché Gesù Cristo è digiunato e voglio capire perché per la prima volta, dopo il dimorato di cristianesimo, in un'apparizione mariana, la Madonna ha chiesto a tutti quelli che vogliono, qui non soltanto, diciamo così, religiosi o non soltanto ai monaci, ha chiesto il digiuno a pane e acqua. Certamente se non c'era la regina della pace, la pratica bimilenaria del digiuno, anzi trimilenaria perché già nell'Antico Testamento i profeti Elia, eccetera, si digiunava già nell'Antico Testamento, se non era per la regina della pace questa pratica era cancellata. Perché? Perché io mi ricordo che, vi ricordate quando eravamo bambini che andavano a fare la comunione digiuni della mezzanotte? Capito? Allora, tutti andavano al mattino presto in chiesa perché alla messa delle undici c'era quasi nessuno. Adesso sono tutti alla messa delle undici di mezzogiorno, no? Perché? Perché si digiunava fino, la comunione esigeva il digiuno della mezzanotte. A mio parere quella era una cosa abbastanza severa, forse troppo severa, poi ha messo un'ora di digiuno prima della messa. Poi ha calcolato che comunque, prima della comunione, ha calcolato che strada facendo ci vuole venti minuti, poi la messa incomincia per arrivare alla comunione, passa un'ora, si può mangiare e andare a messa. Cioè è stato abolito il digiuno, poi si è parlato del digiuno al venerdì, poi si può sostituire con che cosa si può sostituire. Si è saltato il digiuno al venerdì, tranquillamente. È rimasto questo barlume di digiuno al venerdì, adesso che non si mangia la carne, ma c'è dell'ottimo pesce per cui in pratica non c'è nessuna penitenza da fare. Perché se io devo scegliere, scusate, se io devo scegliere fra una bistecca e una di vitello, una di pesce spada, dico spendo di più per quello di pesce spada, dico. Quindi è un digiuno, non c'è più, è stato abolito il digiuno. Questo è stato un fatto grave. A mio parere è grave, la Chiesa l'ha fatto per venire in conto, perché sa che oggi si fa già tanta penitenza, no? Però la Regione della Pace ha fatto il digiuno al pane e acqua, il mercoledì e il venerdì, poi l'ha anche motivato, con motivazioni molto profonde, cioè col digiuno, lei dice, si possono fermare le guerre per quante violente esse siano. Allora, questo vi dico perché, a mio parere, la tematica del digiuno è molto importante. Cioè, è una tematica importantissima, è un fatto, c'è il digiuno, è una pratica molto importante che va recuperata nella propria vita personale, innanzitutto, e poi anche nella vita della Chiesa va ripresa, perché come la Chiesa è stata, diciamo, larga in questi ultimi tempi, l'ha fatto la Chiesa per favorire la comunione, il motivo per cui la Chiesa ha allentato il digiuno, l'ha fatto per favorire l'accesso dei fedeli alla comunione, i quali dicevano, ho bevuto il caffè, non posso fare la comunione, oppure, mi chiedono, ho bevuto un bicchetto d'acqua, posso fare la comunione? Quindi, a un momento, la Chiesa dice, facciamo fare la comunione. Allora, io dico, sarà in un modo, sarà in un altro, però, io fossi Papa, direi, scusate, filioli, al venerdì facciamo digiuno a pane e acqua a tutta la Chiesa, tutti i venerdì dell'anno, perché bisogna arrivare a un dunque. Se la Madonna lo chiede due giorni alla settimana, avrà dei motivi, no? Ecco, allora, però bisogna capire perché il digiuno è importante. È una cosa che mi ha sempre fatto pensare, perché il digiuno è importante. Io, dal 1985, ho iniziato a praticare il digiuno di Međugorje, e a un momento, poi, purtroppo, devo dire questo, è il digiuno di Međugorje, che a un momento, uno si abita così bene, che non fa più nessuna fatica, capito? E questo è il lato debole, cioè uno, a un momento, mangia il digiuno, capito? Cioè, voglio dire, quando si è abito a fare il digiuno, lo fa con molta facilità, perciò la Madonna più di una volta ripete, però fatelo col cuore, come se fosse un dono di amore per me. Allora, è la Madonna, perché la Madonna deve studiarla bene, perché lei fa i fatti, dice le parole, ma bisogna capire il perché, perché la Madonna conosce molto bene noi. Dice, in un messaggio, mi ha sempre fatto molto pensare questa cosa, dice, ci sono molte forme di digiuno, dice, uno può rinunciare al fumo, può rinunciare all'alcol, può rinunciare alla televisione, il digiuno degli occhi, il digiuno della lingua, capito? non spetticolare, un pararmale, eccetera, però dice la Madonna che nessuna di queste forme di digiuno può sostituire il digiuno della gola, cioè la rinuncia al cibo o all'acqua. Cioè, il digiuno del cibo è fondamentale, perché il digiuno del cibo è fondamentale? Cioè, dice, nessuna di queste forme di digiuno che lei ha accennato può sostituire il digiuno, che ha una tradizione comunque millenaria, che è quello che ha predicato Gesù nel deserto. Allora, io ho cercato di capire, ma la profondità di questa indicazione, di questo messaggio della Madonna, cioè di questa pratica del digiuno, cioè c'è una profondità teologica e psicologica della pratica del digiuno che va scoperta, perché se non si dicono queste cose a noi cristiani, cosa succede? Che noi andiamo a scoprire poi tutte queste cose, tutte deformate nelle altre religioni, come l'induismo, come il buddismo, le arti marziali, andiamo a imparare cose che sono là deformate quando noi le abbiamo qui belle, limpide e profondamente motivate e le buttiamo via come se fosse niente. Allora, c'è una profondità teologica del digiuno che è questa. Gesù dice che non di solo pane vive l'uomo, cioè il motivo per cui lui ha rifiutato i pani è molto semplice, non di solo pane vive l'uomo. Ma guardate che oggi il digiuno, la rinuncia al cibo, in base a questa frase di Gesù, è una cosa rivoluzionaria. Perché? Perché oggi c'è una concezione dell'uomo ben precisa, che l'uomo è un animale, magari più sviluppato, eccetera, ma l'uomo deriva dalla scimmia, come sapete si è sviluppato, eccetera, no? Perché sappiate che non esiste, ve lo dico, so quel che dico, lo dice il più grande parontologo, forse mondiale, che è Sermonti, biologo anzi, non esiste nessuna traccia, dal punto di vista scientifico, del passaggio dalla scimmia all'uomo. Cioè, quello che noi abbiamo, le prove che noi abbiamo è che prima esistevano le scimmie e improvvisamente ha incominciato ad esistere l'uomo. Non c'è nessun passaggio dalla scimmia all'uomo, nessuno, è un'invenzione che ormai è stata smentita da decenni, però voi vedete che Repubblica e Corriere la mettono sempre tutte le volte sulla pagina, ignoranti come vuoi, ma questa è la verità, ingannatori di gente, ingannano la gente, non c'è nessuno, vi dico, Sermonti, una delle massime autorità, e mica solo lui, potete citare chissà quanti, mondiali, ti dicono che c'è nessun passaggio tra la scimmia e l'uomo, ci sono le scimmie e improvvisamente è nato l'uomo. Come sia nato non si sa. Sermonti dice, io non lo so, non lo sanno neppure gli altri. Capito? Ma, però, qual è la filosofia che oggi gira, sia pure camuffata di scienza, è che l'uomo è un animale, che l'uomo è terrestre, che l'uomo è il suo corpo, e che l'uomo vive di cose materiali. Capito? Quindi il cibo, quindi i piaceri, quindi le cose di questo mondo, e quindi l'uomo è un essere terrestre, che nasce dalla terra, che si è evoluta, ha prodotto l'uomo, e dopo l'uomo diventa di nuovo terra. Questa è la visione del mondo, è la visione dell'essere umano, che oggi circola, che oggi si impone, e che poi si riflette anche nel modo di impostare la vita, e anche nel modo di affrontare la morte, purtroppo. Questa è la verità, per cui molti muoiono senza pregare, senza pentirsi, senza pensare all'aldilà, muoiono come animali. Questa è la verità, nuda e cruda, e anche noi contribuiamo a star bene attenti, quando uno, un nostro caro, sta per morire, chi di noi parla del paradiso, del pochettorio dell'inferno? No, direi che la prossima volta, no, guarda che, poi andiamo ancora a mangiare in trattoria, appena stai bene. Capito? Questa è la consolazione che noi diamo ai nostri moribondi. Allora, la frase di Gesù, non di solo pane vive l'uomo, cioè il digiuno ti sfata, questa visione dell'uomo, cioè l'uomo non vive di solo pane, capito? L'uomo è anche spirito, l'uomo è anche anima, anzi, l'uomo è soprattutto anima, è soprattutto spirito, e noi, appunto, siamo anima, siamo spirito, proprio per questo siamo capaci anche di rinunciare, rinunciare i bisogni del corpo, siamo capaci di rinunciare, diciamo così, a quelli che sono i bisogni animali, guardate che, un animale è capace anche di fare digiuno, per esempio il gatto, quando sta male non mangia, è il suo modo di curarsi, capito? però è un istinto che è collegato al corpo, appena sta bene ricomincia a mangiare, come no? Ma voi dovrete mai, dovrete mai un leone che ha fame, e che a un momento dice, no, non mangio oggi, insegue una canzone, dice, oggi è venerdì, e si ferma, non troverete mai voi un animale che faccia, che sia capace, voi non troverete mai un animale che sia capace di dominare il suo istinto, è impossibile, perché è una necessità, è una catena necessaria, capito? Solo l'uomo è in grado di dominare il suo istinto, l'istinto fondamentale dell'uomo è la sua conservazione, la conservazione di se stessi, ma questo è anche l'istinto degli animali, che noi abbiamo questo istinto, l'autoconservazione, ci conserviamo mangiando, capito? La rinuncia al cibo, cosa fa scattare? La rinuncia al cibo fa scattare in te una dimensione, che non è quella del corpo, che è la tua dimensione spirituale, capito? E riesce a contrastare, riesce a rinunciare, e quindi affermi in te una dimensione, che è la dimensione dell'anima, che è una dimensione spirituale, che ti apre alla trascendenza, che ti apre all'immortalità, quindi uno che digiuna, uno che digiuna, scopre la sua dimensione spirituale, scopre chi è, che l'uomo non è l'animale, l'uomo è anche spirito, l'uomo è persona, l'uomo è consapevolezza, l'uomo è intelligenza, l'uomo è decisione, l'uomo è libertà, l'uomo è moralità, scatta tutto questo, ti fa scoprire la dimensione interiore di te stesso, diversamente noi siamo proprio, non so come dire, facciamo delle cose incredibili, cioè rischiamo di essere totalmente dipendenti dal nostro corpo. Allora, il digiuno dunque ha un valore teologico profondo, proprio sulle parole di Gesù, che dice, non di solo pane vive l'uomo, uno digiunando scopre che in lui ci sono altre fami, molto più profonde, che sono le fami di spiritualità, di mortalità, di felicità, di bellezza, di moralità, di qualcosa di più alto delle cose della terra, ma quello che uno le scopre evidentemente digiunando, cioè digiunando tu metti i bisogni materiali, li metti a tacere, li metti a tacere. Poi il digiuno ha una, a mio parere, ha un aspetto psicologico, dal punto di vista psicologico, è una cosa incredibile, è una cosa incredibile, perché cioè voglio dire chi lo fa sa che il digiuno praticato rende gli uomini liberi, rende gli uomini liberi, e vi dicevo per quale motivo? Cioè noi cosa, alla fine, noi cosa facciamo? Noi, noi soddisfacendo quelle che sono le fami del nostro egoistico, che poi sono quelle fami che conosciamo e sono le fami di piaceri, di cose, di onori, noi soddisfacendo tutto questo tipo di fami, che poi sono i sette vizi capitali, alla fine, noi soddisfacendo tutte queste fami di mondo, noi c'è proprio veramente a causa del peccato originale, c'è una fame di mondo, guardate come Sant'Omaso definisce il peccato, per capire bene come c'è una profondità teologica nel digiuno, Sant'Omaso definisce il peccato il distaccarsi il nostro distaccarsi del nostro cuore e della nostra anima da Dio per rivolgersi alle creature, cioè noi col peccato cosa facciamo? Che noi invece di aprirci a Dio ci apremo le cose del mondo, ci apremo le creature e le mangiamo, ci nutriamo di esse, le mangiamo con gli occhi, le mangiamo con la bocca, le mangiamo con le orecchie, le mangiamo, mangiamo il mondo, capito? Il peccato, sapete cos'è il peccato? È un allontanarsi da Dio e un mangiare il mondo, questo è il peccato, perché uno a forza di mangiare il mondo si identifica col mondo, si dimentica di Dio, direi che butta, seppellisce il bisogno di Dio che è dentro di sé e più uno, guarda questa è la cosa, più uno mangia il mondo con le sette bocche della superba, dell'avarizia, dell'usuria, dell'ira, della gola, dell'imile e dell'acidia, più uno mangia il mondo, più uno si nuta del mondo, più diventa schiavo, più diventa schiavo del mondo, per esempio, più uno, più uno, non so come dire, più uno fuma, più diventa schiavo del fiumo, più uno beve, più uno diventa schiavo dell'alcol, dall'alcol, più uno prende la droga più ti mette a scavo della droga più uno, e così, non parliamo poi della sessualità che rende gli uomini io dico, permettetemi di dire questa, dico c'è una sola, in Italia le industrie vanno malissimo cioè, dal punto di vista produttivo siamo la cenerentola d'Europa c'è un'industria che va a gonfie vele che realizza fatturati incredibili è l'industria della prostituzione l'Italia è la prima d'Europa se non la prima del mondo, io dico, dovevano prendere tutti i quattrini dovevano ma capito, ma io credo che fanno mangiare, fanno privano le famiglie del necessario per andare dalle prostitute ma guarda, questi fanno ma milioni, milioni di italiani dico, per di questo brutto vizio quando uno, ho fatto l'esempio perché sono le dipendenze che ha il nostro corpo dalle nostre passioni cioè uno più soddisfa più uno soddisfa le sue passioni più diventa schiavo di queste passioni finché queste passioni lo schiavizzano totalmente e poi lo distruggono per cui tu vedi tu pino uno un alcolizzato guarda, un alcolizzato fa spavento perché guardate che picchia urla uno lo sa se una donna sa cosa vuol dire il marito alcolizzato lo sa benissimo cosa vuol dire lasciamo perdere poi il fumo col quale molti molti poi vanno all'altro mondo perché il tumore ai polmoni eccetera eccetera e poi e così via non parliamo poi della droga che rovina tantissimi giovani ma li rovina e fisicamente e anche economicamente ma anche moralmente perché poi rubano ammazzano eccetera no? ma uno da queste cose non riesce a distaccarsi cioè è un processo questo di schiavizzazione per cui si realizza quello che Gesù ha detto chi è schiavo chi fa il peccato diventa schiavo del peccato allora uno con uno in questa condizione guardate con uno in questa condizione non ha mica più la volontà non ha mica più la volontà cioè tu lo puoi applicare a fare quel che vuoi dopo un po' ritorna come prima o lì infatti dove ci sono per recuperare ci vuole un lungo cammino allora perché perché la volontà perché proprio a forza di mangiare il mondo uno diventa schiavo dei meccanismi del mondo uno a forza di soddisfare le sue passioni diventa schiavo delle sue passioni ed è una vita infernale cioè è una vita infernale tra l'altro le persone che fanno così sono persone inaffidabili cioè sono persone inaffidabili schiavi delle proprie passioni sono pure pericolose pure pericolose specialmente i drogati sono pericolosi capito per dire come si diventano schiavi perché si diventano schiavi perché uno non è abituato a dominare il proprio corpo non è abituato alla pratica della rinuncia non è abituato a dirti no ma noi non abituiamo neanche i nostri bambini ma io mi ricordo quando ero piccolino si facevano i fioretti ma noi avevamo una scatoletta dove alla fine noi dovevamo mettere ogni giorno un sassolino che indicava il fioretto che facevamo e alla fine della quaresima ci dovevano essere la scatoletta dovevano essere piena di sassolini capito almeno un fioretto al giorno ma voi queste pratiche noi le abbiamo buttate via perché abbiamo seguito abbiamo seguito le teorie dottor Spucca secondo cui bisogna soddisfare tutti i bisogni capito ma ragazzi uno soddisfa tutti i bisogni diventa schiavo di tutti i bisogni i bambini diventano capricciosi non sanno più rinunciare a niente non sanno più rinunciare a niente allora non sanno più non sanno più capaci di rinunciare ma questa guardate che una persona che non sa rinunciare è una persona infelice chi sa rinunciare diventa felice ma chi non sa rinunciare diventa felice anche perché poi le cose che vuole non sempre può averle e diventa un cane che è la perpetua ricerca dell'osso questo diventa una persona che non sa rinunciare quindi educare la rinuncia fin da bambini una volta si faceva è una è fondamentale questo per educare la libertà allora uno che non sa rinunciare siccome il mondo offre 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 poi satano offre 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 uno prende 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 perché poi diventa schiavo in tutte queste cose allora come si esce siccome ora lasciamo perdere i casi estremi ma prendiamo noi come noi i che siamo impottiti dalle cose di questo mondo che mangiamo questo mondo come possiamo uscire fuori da questa situazione di schiavitù di dipendenza il digiuno è una cosa incredibile il digiuno che la Madonna propone che comunque è molto severo ha pane e acqua è molto pane e acqua da mezzanotte a mezzanotte è un digiuno molto severo dal punto di vista psicologico non lo è molto dal punto di vista fisico perché guardate che col pane e con l'acqua si può campare anni non è che con il pane e con l'acqua uno oh non c'è le vitamine capito ma dico con tutte le vitamine che abbiamo non c'è le vitamine per carità uno col pane e con l'acqua campa campa anzi i panni del deserto mangiavano pane e acqua tutti i giorni soltanto a sabato sera mangiavano qualche legume quando si trovavano tutti insieme è bello che campavano tutti otticent'anni guardi bello perché non ci fosse pronto soccorso là a quei tempi allora allora cosa succede che che noi siamo siamo quando siamo in queste situazioni scrivi tu la rinuncia ora per quanto riguarda la quaresima io so benissimo che ci sono delle persone che coraggiosamente o anche fuori dalla quaresima fanno il digiuno a pane e acqua il mercoledì e venerdì allora io dico ci sono delle persone che in quaresima per esempio fanno dei fioretti cioè in questo tempo di quaresima rinuncio a fumare oppure in questo tempo di quaresima rinuncio a una cosa che mi piace sono i fioretti che comunque sono molto utili e poi ci sono le rinunce più grandi che sono quelle di mangiare pane e acqua da mattina a sera questa è una rinuncia che non fa male alla salute perché si mangia pane e acqua ma che scatena in noi cioè siccome noi siamo abituati a mangiare tante cose siccome siamo in un tipo di società che ci propone tante possibilità e anche quando siamo davanti alla televisione vediamo sfilare e poi abbiamo usato il frigorifero una volta non c'è il frigorifero non c'è il frigorifero è sempre lì pronto eccetera eccetera allora uno che pratica il giugno a pane e acqua da mattina a sera deve esercitare cosa succede? deve esercitare la forza di volontà deve dire rinuncio qual è la forza positiva che si scatena? qual è? è che la nostra volontà la nostra libera volontà che si è indebolita perché noi più soddisfacciamo i nostri bisogni materiali la volontà si indebolisce si indebolisce se poi sono bisogni peccaminosi addirittura la volontà si perde capito? si indebolisce perché noi siamo abitudinari cioè noi a forza di abituarci a a a far questo a mangiare questo a mangiare questo a un momento diventa un'abitudine a cui non riusciamo a rinunciare allora se tu incominci a rinunciare o con i piccoli fioretti o con il digiuno a pane e acqua cosa succede? che la tua volontà che si è indebolita la tua volontà che si è indebolita si rafforza e cavolo si si rafforza guardate che guardate che cioè non so se voi fate questa pratica del digiuno o comunque delle rinunce ma guardate che se uno riesce in tutta la quaresima a mettere a fuoco qualche rinuncia che riguarda il cibo io vi dico il cibo perché lo so benissimo che uno può rinunciare anche alla televisione o può rinunciare al fumo io vi dico qualcosa del cibo per esempio la rinuncia al caffè no? io non l'ho fatta questa rinuncia al caffè ho fatte altre dunque no perché se no pure di addumentare mi metto faccio il commento alla stampa no? allora allora dico se uno mette in pratica una rinuncia e la porta avanti ma io ho capito come la Madonna ha ragione cioè i risultati sono meravigliosi sono di profilo psicologico perché scatena le energie spirituali che sono in noi e rafforza la volontà rafforza la volontà per cui noi riusciamo a volere riusciamo a volere nelle cose importanti cioè io a forza mi dire no stamattina non bevo il caffè no stamattina non bevo il caffè no stamattina non bevo il caffè e ci è passato davanti al bar e mi volto dall'altra parte allora cosa succede? succede questo che io in questo momento mi accorgo che divento un padrone di me stesso che sono io che comando che non sono i miei bisogni che mi io non sono più sotto la dittatura dei bisogni materiali del corpo sono io che comando allora io mi posseggo mi posseggo cioè sono capace di autodeterminarmi sono capace di guidare di guidare me stesso capito? sono capace allora di dire di no a cose più importanti a dire di no alle tentazioni a dire di no quando mi arrabbio a dire di no quando mi fai voglia di fare una cosa a dire di no al peccato cioè l'esercizio della rinuncia ti rafforza la volontà la quale volontà poi la quale volontà poi diventa per te uno strumento per il combattimento spirituale a livello morale per cui uno poi dice no alla tentazione no al male no al peccato no alla seduzione di satana perché? perché la sua volontà sarà forzata ecco dunque vedete com'è importante come da punto di vista proprio esistenziale questo uno lo scopre nella sua vita lo scopre se uno ad un momento è abituato a dire di no ai bisogni anche elementari diventa capace di no alle passioni diventa capace di no alla fame di mondo capito? diventa padrone di se stesso per cui nella sacra scrittura c'è una parola nel nuovo testamento dice san paolo alla virtù dell'encrateia che vuol dire del dominio di sé uno si possiede è padrone di sé si autodecide va dove vuole non dove lo portano le passioni ma questo è fondamentale nella vita perché guardate che poi queste persone sono le persone più affidabili sono le persone più sicure perché perché non si fanno trascinare non si fanno trascinare quindi da punto di vista psicologico il digiuno ha una dunque da punto di vista teologico il digiuno ti fa scoprire che tu hai la dimensione spirituale capito? da punto di vista psicologico ti rafforza la volontà che poi diventa lo strumento in quale tu combatti il combattimento spirituale di ogni giorno per cui per cui questa pratica del digiuno diventa diventa uno strumento straordinario per quanto riguarda la vita spirituale per quanto riguarda il proprio cammino spirituale certamente la Madonna la Madonna ha detto che comunque il digiuno non deve essere fatto come puro esercizio ascetico perché guardate che sotto il profilo puramente ascetico manca la motivazione cioè voglio dire dunque all'inizio molti fanno il digiuno perché dicono che bello così dimagrisco no perché queste diciamo le cose come sono che bello così dimagrisco capito? ecco così mi scende il colesterolo si fanno però queste motivazioni vi assicuro che durano una settimana non di più capito? dopodiché non durano cioè la motivazione non deve essere né di carattere evidentemente salutistico e neanche di carattere ascetico per arrivare al dominio di sé la Madonna dice che bisogna arrivare al digiuno come atto di amore per lei ce lo faccio per amore capito? io mi ricordo che mi ricordo cioè che a chi per esempio ha il vizio di fumare no? ha il vizio di fumare e mi viene a dire ah ho il vizio di fumare ho cominciato tante volte poi non ci sono riuscito cosa devo fare? dico scusa cosa devi fare? c'è lì il pacchetto di sigarette no regalalo alla Madonna tutte le volte che tu diventa fumare lo regali alla Madonna la Madonna non fuma si sa ma ma se diventa la Madonna se il pacchetto di sigarette diventa uno lo pute e poi va a riprenderlo capito? se invece lo dà la Madonna quello non te lo fa più vedere bisogna dargli alla Madonna il pacchetto di sigarette cioè il digiuno va fatto come gesto di amore questa motivazione cioè la motivazione dell'amore dell'amore per la Madonna la motivazione l'amore per Gesù Cristo e l'amore per la Madonna è quella motivazione che dura che ti fa andare avanti che ti fa perseverare che fa sì che tu non ti stanchi dopo solo un po' dopo poco tempo questo dunque è veramente la diciamo così la messa a fuoco che vi dico comunque come esperienza anche personale dell'importanza del digiuno nella vita quotidiana nella vita proprio nella vita cristiana che che non so a mio parere non non va fatto soltanto nel tempo di Quaresima che pure è un tempo privilegiato cioè la pratica della rinuncia la pratica dei fioretti deve essere la pratica del dominio deve essere un fatto che ci accompagna quotidianamente perché in questo modo tiene sveglia la volontà la tiene adatta al combattimento spirituale e questo è un aspetto del digiuno che è importantissimo attenzione però adesso c'è un altro aspetto del digiuno che a mio parere è ancora più importante dunque la Madonna ha detto la Madonna dunque intanto guardiamo Gesù nel deserto il quale perché uno si chiede perché Gesù ha digiunato nel deserto l'ha fatto per insegnare a noi evidentemente l'ha fatto per insegnare anche a noi d'accordo però dunque il Vangelo dice che al termine di 40 giorni 40 notti di preghiere e di digiuno è stato diciamo così affrontato da Satana che lo ha tentato quindi c'è indubbiamente questo aspetto importantissimo del digiuno per cui la preghiera e il digiuno sono le armi fondamentali sono le armi importanti del combattimento contro il demonio contro Satana in particolare contro il demonio quando tenta quando seduce però questo è riconducibile a quello che vi ho detto prima cioè il digiuno ci allena ci rende forti e ci rende anche capaci di rinunciare alla tentazione perché la tentazione cos'è la tentazione? la tentazione è un pensiero seducente cioè bisogna capire bene la psicologia della tentazione cioè a un momento uno è tentato ma cos'è la tentazione? è qualcosa che colpisce la mente mi viene in mente una cosa o vedo una cosa ma la rappresento e la considero con la mente questa è la tentazione la tentazione è una freccia satanica che colpisce la tua mente questa è la tentazione allora io vedo vedo lo so qualcosa lo desidero oppure non è soltanto un desiderio la tentazione è anche una cattiveria capito? quando mi ha colpito mi voglio vendicare voglio ingannare cioè la tentazione è sicuramente un pensiero malvagio la tentazione è un pensiero è un pensiero malvagio allora che colpisce la mente questo pensiero viene un po' da dentro di noi dove c'è la spinta al male un po' dal mondo che si offre tante cose seducenti e dietro c'è il demonio che molte volte attacca anche personalmente nella tentazione quando le tentazioni sono veramente molto forti è proprio satana che interviene allora comunque la tentazione è sempre un pensiero che ti attira che ti seduce è una proposta di male è una proposta di male tu nella misura in cui sei allenato dalla preghiera del digiuno sei in grado di dire rinuncio la cacci via e devi cacciarla via subito all'inizio perché se man mano se tu la tieni nella mente quella pian piano capito pian piano si improduce dalla tua mente e tu continua a guardarla ti attira e pian piano pian piano ti prende entra nel tuo cuore e ti porta a fare il male allora com'è che si vince la tentazione la tentazione si vince con la capacità che noi abbiamo con la volontà allenata proprio dal digiuno e fortificata dalla preghiera la tentazione non la vince in che modo rinunciando ad essa appena viene capito rinunciando ad essa appena viene arriva il pensiero folgorante improvviso di una tentazione e tu subito lo ammazzi come dicono i padri della chiesa il serpentello va ammazzato subito col pendolo alla testa finché è piccolo ma se uno non ha questa forza di dire subito rinuncio pian piano quel serpentello stai attento perché poi la cosa buffa sapete qual è che uno dice ah ma la penso per cacciarla la penso per cacciarla come la pensi per cacciarla quella ti ha già preso o tu dici rinuncio subito e guardi altrove cacci il pensiero e non lo fai entrare più da nessuna fessura oppure quello pian piano pian piano ti mette a perdere ti mette a perdere non c'è niente da fare non lo cioè o uno o uno cioè perché il padre nostro diceva una volta adesso lo cambiano però c'era qualcosa di molto importante in quel non ci indurre in tentazione cioè la traduzione sarebbe non permette che entriamo nella tentazione perché se tu entri nella tentazione se entri ti stritola capito ti stritola non devi entrare per non entrare devi sapere di rinuncio subito appena arriva ma per di rinuncio subito appena arriva tu devi essere allenato di tanti piccoli rinuncio con i fioretti con il digiuno se non hai fatto questo non sei in grado di dire subito rinuncio allora quella prende possesso di te entra in te e ti fa fuori ti fa fuori o tu insomma è come un incendio finché è piccolo se tu diciamo così c'è un piccolo incendio un secchio d'acqua se tu sei veloce prendi un secchio d'acqua e lo spegni se tu aspetti dieci minuti quello ti brucia così è la tentazione ma la tentazione uno la uno la come si dice la uccide perché è proprio un serpentello eh la uccide subito se è capace mi ti rinuncio cioè rinuncio a pensare a quella cosa rinuncio a pensarla rinuncio a considerarla anche per cacciarla eh cioè uno la pensa perché poi la caccia no 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 se tu la consideri cioè dov'è che ha sbagliato Eva 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 si è messa lei voleva Eva capito voleva voleva Eva sapete cosa voleva fare voleva catechizzare il serpente voleva insegnare la catechese voleva fare la catechese al serpente sì perché il serpente gli dice gli dà una parte fila che parte subito con un sibilo tremendo gli dice è vero che Dio vi ha detto di mangiare di nessun albero del giardino falso lei Eva voleva insegnare la serpente la verità no non è vero ha detto Dio che solo di un albero non possiamo mangiare che imbecille che è stata era già caduta appena lei ha sentito il sibilo del serpente doveva voltare le spalle e andarsene non fermarsi a parlare non fermarsi a parlare voltare le spalle e fuggire subito ma neanche fermarsi a dirgli due parolacce neanche quello neanche fermarsi a dare una lineata in testa fuggire subito difatti lei invece vuole catechizzare il serpente no? e come la tentazione vogliamo capito vogliamo la voglio cacciare la voglio scoprire la voglio cacciare allora lei dice no ci ha venuto di mangiare solo di un albero ci ha proibito di mangiare e il serpente fa e si ma l'ha proibito perché è invidioso che voi diventate ha paura che voi diventate come lui e quella era già allora Eva lo guarda quell'albero e lo vide bello gustoso fritta 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 perché fritta perché non ha appena il serpente ha parlato doveva fuggire ma tu ma per la ma la tentazione tu la vinci soltanto se tu sei abituato alla rinuncia per cui dici subito rinuncia a questo pensiero perché la tentazione è sempre un pensiero tu mi dici rinuncia a questo pensiero hai vinto hai vinto però si indebolisce si indebolisce e muore muore vedete come è fondamentale dunque la pratica del digiuno e della rinuncia nella lotta contro satana contro le tentazioni che vengono da lui questo è un aspetto molto importante cioè noi la battaglia contro il demonio la vinciamo con la rinuncia tant'è vero che al sabato santo la chiesa cosa ci fa dire ci vede rinunciate a satana nella rinnovazione delle promesse battesimali rinunciate a tutte le sue seduzioni e noi diciamo rinuncio 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 ma questo rinuncio se tu non sei abituato a rinunciare tutti i giorni non hai la forza di dirlo non hai la forza di metterlo in pratica e questo è un aspetto del digiuno fondamentale fondamentale per vincere la grande battaglia della vita che ha in palio la salvezza eterna dal nostro animo si scappa da lì adesso vorrei mettere in evidenza un altro aspetto del digiuno che è molto importante però stavolta non unisco la preghiera cioè noi noi cristiani non lo sappiamo e purtroppo questa è una cosa grave noi abbiamo in mano due armi con le quali possiamo ottenere tutto da Dio ma veramente sapete ma guardate che questo è vero ci sono 15 milioni di italiani che vanno dei maghi poi una buona parte che vanno dei pseudosantoni o cose di questo genere quanto potrebbero ottenere tutto per conto proprio io dico potrebbero ottenere tutto per conto proprio cioè io non dico che non bisogna per carità chiedere intercessione di qualche siamo in un gruppo di preghiera preghiamo tutti insieme anche a me molti mi dicono preghi per me dico se preghiamo insieme però quello si può fare ma vi spiego guardate che guardate che quello che Gesù ha detto pregate ed otterrete è vero pregate ed otterrete è vero io ve lo dico per esperienza personale chi prega con fede chi prega col cuore ottiene tutto tutto ottiene tutto naturalmente tutto ciò che è buono evidentemente Dio non ti dà qualcosa che sia di pericolo per la tua anima è ovvio ma tutto ciò che tu chiedi a Dio te lo dà molte volte dà anche la guarigione a meno che Dio non pensi questa persona qui me la porti in paradiso perché ho bisogno che lavori qui in paradiso allora capito ma ma è sempre grazie anche quella ma credetemi credetemi con la preghiera si ottiene tutto e col digiuno si ottiene ancora di più se noi mettiamo insieme la preghiera e il digiuno possiamo ottenere le più grandi grazie ma guardate che la Madonna è venuta qui a chiedere la preghiera e il digiuno dicendo con la preghiera e il digiuno potete fermare le più grandi guerre le guerre per quante violente esse siano allora io vi dico di quello di cui sono certo e me ne infisco se gli altri non ci credono perché noi dobbiamo mica guardare quello che pensano gli altri no? noi siamo matti allora allora il Papa Giovanni Paolo II nel suo testamento Papa Giovanni Paolo II era un uomo straordinario e vedeva le cose che noi non vediamo aveva una comunione con Dio che noi non abbiamo aveva delle grazie speciali che noi non abbiamo l'ha dimostrato anche diciamo così e lui è stato lo strumento con il quale la Madonna ha attuato la promessa di Fatima che la luce si sarebbe convertita perché è Giovanni Paolo II che ha battuto la più grande menzogna della storia dell'umanità che era il comunismo ateo che aveva coperto mezzo mondo scavizzando la gente scavizzando la chiesa eccetera eccetera dunque Giovanni Paolo II poi vedete come Giovanni Paolo II ci ha molto colpito cioè il fatto che Monsignor Grillo non credeva all'acclimazione della Madonna no? poi Monsignor Grillo è il tipico vescovo italiano dico con molto rispetto i vescovi italiani siccome non hanno anche ragione siccome ci sono troppe madonne che piangono allora stanno molto attenti hanno anche ragione dico però insomma quando piange per davvero insomma ecco allora però Giovanni Paolo II si è fatto portare la Madonna lì sapete che Giovanni Paolo II si è fatto portare la Madonna in civita vecchia da Monsignor Grillo l'ha vittuto lì a cena hanno pregato prima hanno fatto cena insieme hanno pregato dopo lui ha venerato questa Madonna e ha fatto scrivere a Monsignor Grillo una lettera che lui ha controfirmato dicendo che il Papa ha voluto che lei fosse portata lì a Madonna e che lui aveva pregato davanti a questa Madonna che piangeva e che era dispiaciuto il Papa che i vescovi italiani fossero così increduli l'ha fatto scrivere tutto a Monsignor Grillo e il Papa l'ha controfirmato questa lettera è stata pubblicata una settimana fa cioè la Santa Sede ha dato il permesso a Monsignor Grillo di renderla nota è stata resa nota anche in televisione a Rai 1 ma anche pubblicata sui giornali sì e cioè lo dicevo per dire Papa Giovanni Polo II era un uomo straordinario che aveva anche una visione luminosa lui ha detto Papa Giovanni Polo II al suo testamento ha ringraziato Dio perché ci aveva preservato dall'olocausto nucleare cioè noi ci meravigliamo che dal 1946 in poi 1945 quando accadono le due bombe a Hiroshima e Nagasaki noi ci meravigliamo ci andiamo per scontato che non è scoperto nessuna bomba atomica da allora a parte il fatto che l'arsenale atomico è cresciuto a dismisura nel mondo ma il fatto che da allora non ci si ma questo ve lo dico perché è inutile che si di studi storici o cose di questo genere perché se ne sarebbero iosa cioè voi non sapete l'idea di quante volte noi abbiamo rischiato la guerra nucleare tutte le volte per un pelo è stata evitata ma in particolare tutte le volte per un pelo ma in particolare è stata evitata nel 1985 quando non c'erano ancora voi non so se io leggo i giornali da quando sono nato quindi so bene queste cose comunque ci sono degli studi pubblicati specialmente soci ha fatto dei studi ottimi su questo argomento nel 1985 in Europa non c'erano ancora gli aeromissili con solo gli aeromissili erano i missili americani puntati qui in Europa contro la Russia c'erano i missili americani che prima di arrivare in Russia passavano una giornata intera prima che arrivassero allora la Russia aveva messo aveva messo l'Unione Sovietica aveva messo in atto un piano nel 1985 questo molto semplice comunque avessero venuto alla luce cioè loro avrebbero puntato i missili sull'Europa che sono a due passi l'avrebbero diciamo così colpito i punti nevralgici con le testate atomiche e avrebbero occupato in un blitz tutta l'Europa questo era nei loro piani e prima che gli Stati Uniti intervenivano cosa facevano buttavano i missili sull'Europa era un dato di fatto da parte la Russia aveva bisogno dell'Europa cioè aveva bisogno della Francia della Germania e anche dell'Italia per lo sviluppo tecnologico allora questo era il piano perfetto che c'era in atto cosa è successo che il 25 maggio del 1985 il 25 maggio questo era stato pubblicato un bellissimo articolo di soci sul giornale il 25 maggio del 1985 la più grande base missilistica russa è Esplosa capito se voi leggete i messaggi se voi leggete quello che diceva Mirjana quei tempi e anche quei tempi sembrava che il tempo di 16 sembrava imminente della dichiarazione di Mirjana nell'84 o nell'85 basta andare a vedere in internet c'è ancora tutti i messaggi della dichiarazione di Mirjana poi provvisamente cioè quello che ha detto Giovanni Paolo II che noi siamo stati siamo stati preservati dall'olocausto nucleare è verissimo cioè per miracolo siamo stati preservati il mondo è stato preservato dall'olocausto nucleare ma questo è avvenuto più di una volta non solo nel 1925 lo sappiamo noi ma nel 1991 ce l'ha detto la Madonna perché pochi mesi dopo è crollata l'Unione Sovietica nel 91 è crollato il comunismo è crollato come le mura di Gerico senza che ci fossero sconvolgimenti è un fatto poi per l'altro il comunismo è stato liquidato in quell'anno lì l'8 dicembre si rinunerano tutti i capi delle repubbliche sovietiche e decisero l'8 dicembre il giorno immacolato ma loro non lo sapevano di sciogliere l'Unione Sovietica e il giorno di Natale che per loro non è il giorno di Natale perché per loro il giorno di Natale è l'epifania il giorno di Natale per noi hanno ammainato tutta la bandiera rossa dal cremelino 1991 ma la Madonna a gennaio del 1991 il 25 gennaio vate a vedere i messaggi dice che Satana vuole distruggere non soltanto la vita e la natura ma anche il pianeta sul quale vivete perciò ci ha pregato di pregare di digiunare il più intensamente possibile capito? cioè la Madonna col digiuno e con la preghiera ha ottenuto che noi fossimo preservati che l'umanità fosse fino ad oggi preservata dall'olocausto nucleare e va sicuro che avremo ancora molto digiuno da fare nei prossimi anni perché se le armi di studio di massa arrivano in mano a soggetti non governativi cioè terroristi non so che fine facciamo questo è il tempo di 10 segreti ma questa è una premessa che vi dico perché queste cose vi ho fatto cioè la Madonna ha tenuto vivo il tema del digiuno fino ad oggi perché vi dico che sarà decisivo per il domani per la vita personale e per la vita del mondo chi salverà il mondo ma Giovanni Paolo II l'aveva intuito quando incominciò la guerra in Iraq convocò quelli che ci credevano e quelli che non ci credevano a una giornata di digiuno e di preghiera tutto il mondo convocò a una giornata di digiuno e di preghiera ma lo farà anche il benedetto XVI quando sarà il momento sapete allora quello che volevo dirvi però adesso questa cosa è questo termine la porto sulla vita personale vi dico carissimi col cuore quando volete ottenere una grazia quando volete ottenere una grazia pregate e digiunate la ottenete io vi faccio vi dico una cosa io ho ottenuto un miracolo ho ottenuto un miracolo dicendo per dieci anni i sette padri aveva gloria un miracolo un vero miracolo senza il quale non ci sarebbe Radio Maria adesso capito? lo dico sul serio e quel miracolo che io ho chiesto per dieci anni è accaduto dopo dieci anni quello che chiedevo ogni sera in ginocchio cui siete padri aveva gloria il 25 giugno capito? è accaduto il 25 giugno ma ha fatto per dieci anni la madonna vi dico vi dico vi assicuro vi assicuro che con la guardate con la preghiera vi dico vi dico una cosa volete ottenere una grazia mica vi dico di dire chissà quanti rosari dite magari ogni giorno in ginocchio siete padri aveva gloria oppure ogni giorno in ginocchio la conoscendo la divina misericordia e dite alla madonna io finché non mi dico questa grazia faccio questa rinuncia oltre alla preghiera una rinuncia un digiuno ma non cose strepitose perché in tutte le cose bisogna essere equilibrati ma una cosa che vi piace ci rinunciate vi assicuro che la madonna la mettete a perdere ottenete tutte le grazie che volete ma ve lo dico sul serio ma questo lo dice la madonna dice con la preghiera di ginocchio operate operate miracoli nei cuori e nel mondo nei cuori vuol dire la conversione delle persone dico madri avete un figlio che si droga un figlio che è lontano avete una conversione state tranquilli che se vi impegnate ogni giorno con una preghiera speciale e con un giugno speciale vi dico non vi dico neanche il rosario perché se no molti non sanno neanche dire certo se fate quello è ancora meglio ma di sette patria la gloria e digiunate fate un fioretto e andate avanti finché la madonna vi dà quella grazia lì e tutte le volte che lo fate vi concede grazie a un momento io dico la mia esperienza mi vergogno perfino a dire ma mi è capitato di dire alla madonna ma scusa ma io mi arrivano grazie tutte le parti basta gli ho detto ma davvero stai un po' calma dico sì sì ma vi dico davvero mi devo grazie tutte le parti non ce n'è una che non mi ascolti non ce n'è una ma questa qui è una cosa ma sapete perché mi ha fatto questa grazia la madonna perché ve lo dica a voi cioè la madonna mi ha fatto questa grazia perché lo dica perché dica che è proprio vero perché lei l'ha detto l'ha detto ma vuole che io lo dica a tutti che è proprio così che se si mettono a pregare a digiunare ottengono qualsiasi grazia anche le più inimmaginabili anche le più grandi ve l'assicuro che è una cosa incredibile abbiamo in mano noi cristiani non lo sappiamo ma noi abbiamo in mano armi con cui si possono compiere i più grandi miracoli i più grandi miracoli ma non i miracoli proprio per i miracoli della vita quotidiana ma proprio i più grandi miracoli ma è una cosa che non si può descrivere cosa non fa la madonna perché poi per la madonna cosa credete che per la madonna sia difficile risuscitare un morto ma anche i morti può risuscitare sapete la madonna non c'è nessun problema a guarire una persona te la può guarire dall'oggi al domani capito? ma può far lei da Cristo ottiene tutto tutto può ottenere anche le conversioni le più grandi conversioni si possono ottenere ve l'assicuro anche la salvezza delle anime se uno persevera e che possa appare a Satana anche le anime che sembrano più perdute non abbiamo l'idea di cosa si possa fare con la preghiera e il digiuno ve lo dico ve lo dico imparate 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 quando volete ottenere una grazia e Dio sa quanti di noi qui che sono qui presenti adesso quelli che mi ascoltano Dio sa quante grazie ne abbiamo bisogno ogni giorno ma di fatto io durante la giornata ho sempre perché c'è tutta una serie di cose che molto volte mi sballano perché allegnate di qua allegnate di là graffiate di qua del dimagraffio di là cioè in un momento uno io sapete cosa faccio mi metto in ginocchio per ognuna dico un Ave Maria e una Madonna per ognuna dico un Ave Maria e una Madonna ogni giorno poi man mano che mi ha ascoltato tira via quelle vecchie e metto quelle nuove ma non c'è non ne rimane una appesa troppo non ne rimane una prima la pendevo su un quadro adesso non ci stanno più c'ho proprio a memoria delle file che non finiscono più ma ve lo dico questo perché ve lo dico perché lo sento che abbiamo in mano delle armi incredibili che la Madonna ci ha messo in mano con la preghiera e il digiuno otteniamo tutto con la preghiera e il digiuno possiamo tutto con la preghiera e il digiuno possiamo salvare il mondo le nostre famiglie i nostri cari tutti quello che volete certo benedetto dice la Madonna ama farsi pregare ma la Madonna ama farsi pregare perché vuole che intanto noi pregando ci rafforziamo cresciamo nella fede e ci santifichiamo capito ama farsi pregare perché sa che se facesse la risposta al telecomando poi capito ci vuole fare crescere anche perché poi pregando uno non so come dire prega di gioia ma a tuo momento non prega più di fatica allora allora io vi auguro di tutto cuore verso concludo carissimi in questa quaresima di fare questa straordinaria esperienza di come con la preghiera e il digiuno non solo si può vincere la battaglia e il combattimento spirituale non solo si può combattere e vincere il potere l'impero delle tenebre ma con la preghiera e il digiuno possiamo dare tutte le grazie che noi vogliamo provate e poi mi riferirete che mi riferirete che mi riferirete non solo si può vincere ma che mi riferirete e poi mi riferirete Grazie a tutti.